Signori, eccoci qui, registriamo l'ultimo saluto di Mourinho ai propri tifosi commossi, 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 cioè non c'è nulla da fare, Giuseppe quando ti tocca ti scuote, anche solo in qualche modo strisciandoti leggermente addosso ti scuote, non ti lascia mai comunque indifferente, non c'ha quel senso di scialpo, o lo ami o lo odi ma in qualche modo ti entra, che su di me ha lo stesso effetto, cioè una sorte di amore e odio continua, un'altalena infinita e quindi capisco benissimo quello che i tifosi romanisti stanno provando in questo momento, ma c'è l'ufficialità di Daniele De Rossi che fino a giugno sarà l'allenatore, almeno fino a giugno da contratto sarà l'allenatore della Magica, è un bel nome, vi dico subito che per me è proprio una scelta super sensata, perché specialmente a Roma ci vuole una figura innanzitutto carismatica, e quindi da Mourinho a De Rossi secondo me lo stacco è meno netto, e spero che non sia il classico traghettatore che non faccia la fine dei, che ne so, per esempio metto Pirlo alla Juve che non è stata di certo un'esperienza felice, anche se secondo me in qualche modo gli è servita e vedremo, vedremo che fine farà Pirlo che già sta in qualche modo rimangendo, ma qua stiamo parlando di De Rossi e mi piace, mi piace, mi piace questa scelta, adesso approfondiamo tutto, prima vi invito come al solito a lasciare un like, a iscrivervi al canale se volete in qualche modo seguire i prossimi contenuti, a rimanere aggiornati, a condividere il video su Facebook se mi volete dare una mano a fare un po' quello che vi aggrada, niente di più, niente di meno, due paroline fatemele dire di nuovo su socios.com, che per chi non l'ha scaricato, cosa diamine sta aspettando, lo faccia adesso, e finisce di sentire quattro cose che c'è da dire lo zio d'esco, e poi va a scaricare l'applicazione che trovate in descrizione, che come dico sempre vi dà l'opportunità di avvicinarvi veramente in maniera stretta, di aumentare ancora di più il legame con la vostra squadra del cuore, Roma, Inter, stiamo parlando di socios.com, partner ufficiale della serie, quindi trovate di tutto e di più, scegliete la vostra squadra, vi godete il potere magico dei fan token, e sbloccate incredibili esperienze, come vedere la partita, dal vivo, dalla postazione VIP, riscaldamento, merchandise, c'è di tutto e di più, potete rispondere ai vari sondaggi, appunto, ipotetici della vostra squadra, che vi darà, ripeto, diritto di voto e di azione su varie situazioni, per cui ragazzi, scaricate, socios.com, non lasciate pregare. Allora, dove partiamo? Partiamo dal saluto di Murigno, e poi andiamo su De Rossi. Incredibile, Murigno, l'ho visto scosso, Murigno, ho visto Murigno scosso, credo che veramente gli sia stata comunicata soltanto oggi, l'idea di sbolognarlo, è una roba, sì, credo che forse soltanto, credo di sì, l'ho visto veramente abbastanza scosso, ringraziato i tifosi per l'affetto, più che Murigno, a me è colpito la reazione del pubblico, non è che ha colpito, perché me lo anche aspettavo, ma vedere i tifosi che davvero, in maniera indissolubile, sono legati a Murigno, comunque ti fa capire veramente cos'è Murigno. L'ho detto prima, lo ripeto, piaccia o non piaccia risultati, ne abbiamo discusso dal punto di vista dei risultati sprettamente calcistici, ma è uno che comunque nel, tra virgolette, consentitemi il termine, ma per me è la verità, nel recitare la parte, io, anzi, noi, noi, romanisti, giallorossi, contro tutti, contro il mondo, in quello, in quello è il numero uno, in quello credo non abbia, non abbia veramente rivale, e nella dimostrazione, ripeto, la nota, l'affetto che ancora, in maniera, ripeto, indissolubile, si lega la sua figura a Roma e ai romanisti, quindi in questo è qualcosa di unico, senza ombra di dubbio. Andiamo a De Rossi, Daniel Uccio, come potete vedere dal comunicato tecnico della prima squadra, fino al 30 giugno 2024. Cosa dire, cosa dire ragazzi, ripeto, qui è un discorso, prettamente, secondo me, di figura anche storica, perché, quando parli di De Rossi, parli di uno che ha giocato oltre 600 partite con la maglia, con la maglia della Roma, e lo ha fatto con una professionalità, senza fine, parli di una figura, di una figura importante, di un nome importante a Roma, senza ombra, senza ombra di dubbio. Un altro che, secondo me, vuoi o non vuoi, anche facesse male, e secondo me, onestamente parlando, peggio di così, non ho posto ad oggi. È vero che si è qualificata, ma la qualificazione in Europa League, io non la chiamo qualificazione, quando tu devi andare a giocare il play-off, contro la squadra che scende dalla Champions. Anche andasse male, non credo venisse in qualche modo intaccato. Il rapporto tra De Rossi, la Roma non si potrà mai intaccare, per la professionalità, la serietà, e anche la qualità dimostrata in campo, da parte di De Rossi. Quindi è una scelta che io trovo sensata, logica, nonostante l'ultima e unica esperienza, di De Rossi come allenatore della spalla, non sia andata bene, tra il 2022 e inizio 2023, soltanto 17 panchine, di cui tre vittorie. Difficile, quindi parlare del vissuto di De Rossi come allenatore, è fermo da un anno, per cui anche qui stare qui a indafferarsi su come giocherà la Roma. Lui alla spalla giocava con il 3-4-2-1 o con il 3-5-2. Sì, quindi sostanzialmente potrebbe continuare, dal punto di vista tattico, con la stessa scia, perché anche la Roma gioca con questo 3-5-2, anche se io penso che forse la cosa migliore sarebbe proprio anche stravolgere, dare un getto di spugna, però stare qui a discuterne come gioca, non possiamo dirlo, non possiamo dirlo, non possiamo sapere cosa ha in mente adesso De Rossi, anche perché poi sostanzialmente c'è da entrare anche nella testa dei giocatori, in questo secondo me lui è capace, secondo me è un empatico per quanto mi riguarda, deve entrare nella testa dei giocatori perché Mourinho su quello ha lavorato, dal punto di vista tattico la Roma secondo me può solo migliorare, è il discorso adesso mentale che deve cancellare quello che è stato, perché la Roma negli ultimi due anni si è buttata sulla foga, ripeto, sull'andare appunto per inerzia, di cattiveria, e adesso bisognerà staccarsi dal passato e vediamo come attecchirà il credo di De Rossi. Sapete, sono quelle scelte che a me, l'ho tecchata e lo ripeto ancora, sapete perché anche quando l'Inter quegli anni veramente di magra, dove non si andava in Champions, dove anzi forse si raggiungevano i settimi posti in classifica, e quando veniva fuori il nome tipo del cambiasso di turno, io ero sempre felice, e io stavo sempre lì a aspettare, a sperare che arrivasse il cambiasso di turno, cioè magari l'allenatore emergente che in campo già era allenatore, stessa roba per De Rossi in campo, già era allenatore, e in qualche modo legato, per quanto riguarda cambiasse all'Inter, in maniera anche indissolubile, attraverso il triplet, tante varie stagioni in nero-azzurro, ancora di più, mi aiuta a dire l'esempio, De Rossi. E quindi se mi rivedo quella percezione io con appunto dei prospetti nero-azzurri, la stessa cosa mi viene da dire, e credo che i romanisti lo accolgono proprio benissimo, e vediamo, vediamo quello che succede in campo, sono molto curioso di vedere la Roma targata De Rossi, ovviamente facciamolo lavorare, ecco, spero che questo venga capito, senza ombra di dubbio, anzi, facciamo lavorare oltre il, oltre giugno 2024, perché qui è veramente la nuova stagione, cioè, secondo me, per discuterlo da allenatore dobbiamo dargli almeno una stagione e mezzo, come in qualsiasi situazione, onestamente. Va bene? Fatemi sapere, cosa ne pensate voi, commentate la casa, se volete iscrivervi al canale, un grande abbraccio, da Neschio. Grazie a tutti i nostri spettatori,